Ultimo weekend segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per il ritorno al lavoro e la preparazione alla riapertura delle scuole. Sulla rete ANA si è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del centro-nord. Viabilità Italia ha annunciato Bollino Rosso a partire dal pomeriggio di venerdì 30 agosto, di domani, sabato 31 agosto, e in particolare per l'intera giornata di... Nuova Swift Hybrid, tutto di serie e senza sorpresa.